buongiorno amici buongiorno amiche oggi abbiamo una novità croccante l'adattatore android auto wireless della mmb mmb spero che la conosciate tutti è uno dei leader produttori leader dei box per auto ne abbiamo recensito uno recentemente in questo canale che è una bomba e questo qua è un semplice adattatore android auto wireless ma anche lui non scherza mmb per chi non se lo ricorda ha questo simbolo è un leader del settore fa appunto prodotti per l'intrattenimento auto di vario genere questo qui è un semplice tra virgolette adattatore android auto wireless quindi se la vostra auto è dotata di android auto via cavo con questo box diventerà wireless quindi è diciamo entra in una competizione serrata perché di questi adattatori che fanno queste cose ce ne sono tantissimi e noi sul nostro canale ne abbiamo recensiti tanti forse forse tutti direi e lui non è non è da meno della concorrenza perché è veloce è affidabile agli aggiornamenti firmware e secondo me non non gli manca niente magari ecco bisogna un attimo tenere d'occhio il prezzo comprarlo quando sta sui 40 50 euro perché vale assolutamente la pena perché è un brand affidabile perché questo oggetto è veloce sicuramente avrà aggiornamenti per molti anni come vi dicevo ha la possibilità di avere aggiornamenti via ota ma anche è possibile cambiare dei settaggi attraverso il browser web ci si collega ad un ip si apre una maschera su cui è possibile fare gli aggiornamenti ota ma anche fare appunto dei settaggi non siamo ai livelli di a wireless ma sicuramente è possibile fare qualche personalizzazione scordatevi il play store scordatevi netflix in movimento questo è un semplice adattatore se volete i box che invece fanno appunto video in movimento o installazione di applicazioni dovete andare su i box e della mmb sono molto buoni in in questo momento c'è spotify in in riproduzione vediamo se funziona l'assistente vocale in che anno è nato giulio andreotti giulio andreotti è nato a roma il 14 gennaio 1919 l'assistente vocale funziona amici mmb è una sicurezza funziona tutto funziona bene se lo trovate al giusto prezzo compratelo tranquillamente vi metterò in descrizione il link a non ve l'ho fatto vedere adesso ve lo faccio giustamente vedere scusate eccolo è piccolino un po cicciotto vedete è abbastanza spesso adesso non ho qui per misurarlo secondo me non è brutto certo questo colore può piacere o non piacere a me non dispiace però diciamo lo rende originale rispetto agli altri ma a qualcuno potrebbe non piacere forse è cicciotto perché è potente forse cicciotto è cicciotto perché qua c'è la dissipazione non ve lo so dire è molto diciamo è una specie di cubo quindi è basso ma allo stesso tempo largo bisogna un attimo vedere la vostra automobile se ha la possibilità di inserirlo comunque è presente in confezione anche un adattatore da usb c a usb normale sì perché lui ha una usb normale come fosse una pennetta se nella vostra auto c'è solo la porta usb c dovete utilizzare l'adattatore troverete sempre nel canale cina deals un adattatore android auto wireless che invece non necessita dell'adattatore usb c usb normale ma è già lui dotato di delle due porte sia c che normale però non è della mmb però diciamo che in generale ha delle dimensioni che non dovrebbero darvi problemi per inserirlo in macchina ecco il colore può piacere o no questo questo è soggettivo detto questo amici ci salutiamo sono contento di averlo recensito perché mmb è un brand che a me piace e spero che ci invii altri altri prodotti perché io lo trovo lo trovo valido ciao a tutti